Dare un'accelerata al percorso di digitalizzazione delle piccole e medie imprese grazie all'intelligenza artificiale è l'obiettivo dell'incontro formativo ospitato dall'auditorium della Camera di Commercio di Firenze. Lo scopo è infatti da un lato quello di aiutare i piccoli imprenditori a comprendere le potenzialità dell'intelligenza artificiale per accrescere efficienza e produttività anche nelle imprese di modeste dimensioni, dall'altro quello di sostenere lo sviluppo di competenze digitali necessarie per rimanere competitivi sul mercato. Questo è un incontro volta a divulgare al meglio le grandi potenzialità soprattutto verso le piccole e medie imprese della intelligenza artificiale. Lo facciamo con un momento teorico ma lo facciamo anche con un momento più applicativo perché le imprese potranno con deviso proprio con delle applicazioni pratiche verificare in presenza le grandissime opportunità e potenzialità che dà al loro ciclo produttivo, alla loro attività corrente, l'intelligenza artificiale. Quindi aspetto teorico e aspetto pratico. Questo è un percorso di divulgazione che il sistema camerale fa a livello nazionale con solo quattro tappe in Italia. Firenze è uno di queste. Focus dell'azione formativa è l'esplorazione dell'intelligenza artificiale generativa per innovare processi e servizi, rielaborare dati, ottimizzare la comunicazione interna ed esterna e molto altro. In generale direi che l'intelligenza artificiale generativa è un assistente personale, nel senso che è una risorsa che può essere posta accanto a ciascuno di noi, sia questi l'imprenditore o le persone che lavorano in azienda, per dargli una seconda prospettiva. Quindi dargli degli spunti, affrontare magari quelle che possono essere le problematiche che stanno dietro una decisione, oltre ovviamente a crescere in modo molto significativo tutto ciò che ha a che fare con la produttività personale. L'incontro si è svolto nell'ambito del progetto ITAL-IA Lab, promosso da Fondazione Mondo Digitale in collaborazione con Microsoft Italia. Un percorso complesso a cui dobbiamo avere il tempo e la pazienza di accompagnare le imprese verso questo obiettivo. Parte la nuova piattaforma per i certificati di origine, due seminari informativi programmati, uno in presenza al prossimo 28 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 nell'auditorio Un Camerale e uno a distanza al 29 novembre dalle 14.30 alle 17.00, per iscriversi agli eventi utilizzare il link dedicato sul sito della Camera di Commercio di Firenze. Comunicazione volontaria ed obbligatoria in etichetta, i Green Claims, è l'argomento dello webinar sul piattaforma Teams, in programma per martedì 15 ottobre alle 9.30 per illustrare le autodichiarazioni che il produttore può o deve utilizzare, per comunicare le caratteristiche ambientali di un prodotto. Il webinar è accreditato dall'Ordine dei Tecnologi Alimentari, con tre crediti formativi. Iscriversi utilizzando il link dedicato sul sito della Camera, oppure scrivere a etichettatura chiocciolafi.camcom.it. Sono aperte fino al 31 gennaio 2025. Le iscrizioni al Premio Nazionale Adriano Olivetti, nato per ingaggiare le imprese e le scuole alla promozione e al perseguimento dei valori della sostenibilità, della comunità, del rispetto dell'ambiente, dello sviluppo del mezzogiorno e dell'innovazione, di cui Adriano Olivetti è stato promotore. Prevista una sezione per le imprese e una per le scuole. La partecipazione al Premio, promosso dalla Camera di Commercio di Cosenza, è gratuita. Per iscriversi, visitare il sito dell'ente promotore all'indirizzo www.cs.camcom.gov.it. Iscriviti alla mailing list della Camera di Commercio di Firenze. Informazioni utili alla tua attività, iniziative e servizi, ed ogni 15 giorni. La newsletter Camera News, direttamente nella mail.